Roberto, due stagioni al Chievo Verona, 50 presenze condite anche da una rete, esagero se dico che in quelle due stagioni si è visto uno dei migliori, Baronio? Beh, per quanto riguarda il mio percorso sono stati comunque due anni importanti, insomma, fare 50 presenze in due anni non è comunque poco, però sono stato bene insomma, sono stato bene a tal punto che, racconto un aneddoto, alla fine del secondo anno chiesi a Campedelli di riscattarmi totalmente dalla Lazio perché poi nell'anno precedente ci fu l'insediamento di Lotito nella Lazio, niente contro il presidente però mi ero trovato totalmente bene qua a Verona che chiesi a Sartori e a Campedelli di trattenermi definitivamente, invece poi loro, avendo poi già in casa Zanchetta che era di loro proprietà, io ero in prestito, presero altre decisioni e io tornai alla fine del secondo anno di prestito dalla Lazio, ecco, quindi, però ho un ricordo sicuramente buono per me in campo ma anche fuori perché ho ancora degli amici, frequento Fabio Moro, ho casa a Verona, insomma, quindi per me è una città comunque che mi ricorda cose positive. Ecco, ma se ti chiedo, chiudi un attimo gli occhi, quali sono i primi ricordi che ti vengono in mente di quelle due stagioni in giallo-blu? Ma ho tanti ricordi, ho tanti ricordi di gruppi buonissimi, infatti io penso che la ricchezza di quel Chievo era il gruppo, erano i giocatori che ne facevano parte dallo zoccolo duro, dai vari Moro, Danna, Lanna, l'ultimo D'Angelo perché poi l'anno che arriva io poi lui smise di giocare e insomma ero venuto a far parte di una famiglia importante, compresi ovviamente a partire dal presidente Campedelli a Sartori che hanno fatto poi la storia di questa società. Il Chievo di oggi, immagino che comunque tu ti tenga sempre aggiornato non solo sul Chievo ma su tutte le squadre di Serie A cosa pensi del centrocampo e più in generale della formazione allenata adesso da Maran che dopo un inizio difficoltoso si è rimessa assolutamente in pista? Visti gli acquisti dell'inizio dell'anno, insomma la campagna acquisti di quest'estate, pensavo potesse fare meglio perché comunque secondo me sono arrivati giocatori di nome importanti, vedi Maxi Lopez, Birsa, ma poi gli stessi maggiorini insomma il portiere Bizzarri, Bardi, insomma tanti giocatori che comunque hanno un nome e che hanno fatto bene e hanno avuto qualche difficoltà e non pensavo potessero averle con un allenatore così capace come Genio, Corini però questo è il calcio, insomma quando ti aspetti magari una cosa magari può succedere il contrario purtroppo e così è successo però sembra che si siano un attimino rindirizzati sulla via che gli compete però comunque è una buona squadra e non penso sia tra le peggiori. Ultima domanda ed obbligo, quando ti vedremo seduto su una panchina? Beh adesso guarda, sono tre anni che alleno dei ragazzi dilettanti a Roma, mi diverto un sacco mi diverto un sacco e ovvio che la mia ambizione sia quella di arrivare il più in alto possibile non ne faccio una questione di tempo, ovviamente se mi si propone l'opportunità nel futuro prossimo si cerca di fare il meglio però non è una cosa che non mi mette fretta ho passione quindi voglio arrivare per gradi se è possibile ma più che altro se è possibile arrivare. Ma guardando solo sull'aspetto dei giovani, qual è stato l'allenatore che tu guardi oggi perché con i giovani secondo te ha avuto un impatto migliore o quantomeno per la tua esperienza personale? Ma ne ho avuti parecchi nella mia esperienza calcistica e tanti mi fanno questa domanda e non vado a cercare il meglio che loro avevano o quello che facevano di meglio ma vado a cercare magari le cose che a me non andavano bene e cerco di non riproporle ai miei ragazzi quindi anche per quanto riguarda i miei difetti che avevo da calciatore e i miei sbagli che ho fatto cerco di non riproporli a chi insegno adesso e ovviamente questo riguarda anche dagli allenatori che ho avuto cerco di più che altro di non fare errori o di cose che venivano fatte a me e ritenevo sbagliate poi è facile riproporre le cose belle ma ognuno ha la propria personalità e quindi non è neanche facile ripeterle. Per chiudere, a Sergio Pellissè cosa hai detto? Ti aspetto da quest'altra parte o c'è ancora tempo? Io gli ho detto che finché vuol giocare è giusto che stia di là ma in questo momento poi ne parlavo con lui la differenza la fa la testa, la voglia ancora di sacrificarsi, la voglia anche di sacrificarsi pur sapendo che non sei più indispensabile, ecco questa è la vera difficoltà quindi quando tu hai voglia ancora di sacrificarti pur sapendo che non sei più il titolare inamovibile allora lì iniziano le difficoltà, lì si vede la costanza e lì magari si riesce anche a capire se magari è il momento di smetterlo o di continuare come lui sta facendo e come lui ancora voglia.